Grazie di essere qui, questa conferenza stampa di presentazione del lavoro che è la prima conferenza stampa di presentazione del lavoro che il Consiglio dei Ministri ha svolto questa mattina. Nello specifico, diciamo, due principali punti all'ordine del giorno, ovvero la nomina dei sottosegretari e il nostro primo decreto legge. Io non so se i colleghi della stampa hanno, ma immagino abbiano già, la lista dei sottosegretari. Non so se voi vi aspettiate, diciamo, che io la rilegga. Se volete ve la rileggo e così procediamo su questo. Allora, la lista dei sottosegretari e dei viceministri, che poi saranno nominati in un secondo momento, ve la leggo partendo dal Ministero degli Affari Esteri. Il Ministero degli Affari Esteri della Cooperazione Internazionale ha tre sottosegretari, che sono Edmondo Cirielli, Giorgio Silli e Maria Tripodi. Assumerà l'incarico di viceministro Edmondo Cirielli. Il Ministro degli Interni ha tre sottosegretari, che sono Emanuele Prisco, Vanda Ferro e Nicola Molteni. Il Ministro della Giustizia ha tre sottosegretari, che sono Francesco Paolo Sisto, che assumerà poi le funzioni viceministro, Andrea Del Mastro delle Vedove e Andrea Ostellari. Il Ministro della Difesa ha due sottosegretari, che sono Isabella Rauti e Matteo Perego. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha quattro sottosegretari, che sono Maurizio Leo, il quale assumerà le funzioni viceministro, Lucia Albano, Federico Freni e Sandra Savino. Il Ministro dello Sviluppo Economico ha tre sottosegretari, che sono Valentino Valentini, che assumerà l'incarico di viceministro, Fausta Bergamotto e Massimo Bitonci. Il Ministro della Sicurezza Energetica e dell'Ambiente ha due sottosegretari, che sono Vanni Agava, che assumerà le funzioni viceministro, e Claudio Barbaro. Il Ministero delle Politiche Agricole e della Sovranità Alimentare ha due sottosegretari, che sono Patrizio Giacomo Lapietra e Luigi Deramo. Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili avrà Edoardo Rixi e Galeazzo Bignami, entrambi viceministri, e Tullio Ferrante, sottosegretario. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali avrà come sottosegretari Maria Teresa Bellucci, anche lei assumerà le funzioni viceministro, e Claudio Durigon. Il Ministero dell'Istruzione ha come sottosegretario Paola Frassinetti, quello dell'Università della Ricerca Augusta Montaruli. Il Ministero della Cultura ha come sottosegretari Vittorio Sgarbi, Lucia Borgonzoni e Gianmarco Mazzi. Il Ministero della Salute ha come sottosegretario Marcello Gemmato. Il Ministro dei Rapporti con il Parlamento avrà due sottosegretari, che sono Giuseppina Castiello e Matilde Siracusano. Presso la Presidenza del Consiglio sono stati nominati anche Alessio Butti, che assume le funzioni di sottosegretario dell'Innovazione Tecnologica, la delega per intenderci che era del Ministro Colau, all'attuazione del programma di governo Giovann Battista Fazzolari, all'editoria Alberto Baracchini e al coordinamento delle politiche economiche Alessandro Morelli. Queste sono le nomine dei sottosegretari che sono state fatte questa mattina. Nel prossimo Consiglio dei Ministri, del quale vi parlerò tra poco, ovviamente ci saranno anche le definizioni dei Vice Ministri e sarà contestualmente anche la definizione delle deleghe dei Ministeri che sono in preparazione e che verranno approvate nel prossimo Consiglio dei Ministri di questa settimana. Dopodiché, ovviamente, questo è molto importante per un corretto funzionamento del Governo, avevamo promesso che saremmo stati veloci e veloci siamo, ma contestualmente a questo altro tassello importante per il nostro lavoro, stamattina abbiamo proceduto anche, come dicevo, ad approvare un decreto, un primo decreto che, secondo me, è molto importante per i provvedimenti che porta al suo interno, personalmente per me anche, diciamo, a tratti simbolico, nel senso che voi ricorderete che durante la relazione che ho fatto alle Camere ho ricordato di aver cominciato il mio impegno politico all'indomani della strage di Via D'Amelio e ricorderete che molto si è discusso in tema di lotta alla criminalità organizzata tra i grandi obiettivi di questo Governo e io sono contenta, sono fiera del fatto che il primo provvedimento di questo Governo contenga una norma, una iniziativa che va esattamente in questo senso. su proposta del Ministro Nordio, poi io ovviamente darò la parola ai Ministri che sono al mio fianco e che anzi mi scuso per non aver salutato e ringraziato finora il Ministro degli Interni Matteo Piantenosi, il Ministro della Giustizia Carlo Nordio e il Ministro della Salute Orazio Schillaci, ovviamente il Sottosegretario della Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. Noi abbiamo deciso di intervenire su una materia che ci sta particolarmente a cuore da diverso tempo, che riguarda il tema del carcere ostativo, voi sapete che da diversi anni nel nostro ordinamento è prevista una previsione di legge in forza della quale i benefici, diciamo così, carcerari possono essere concessi nel caso di detenuti per reati di mafia solo ed esclusivamente nel caso in cui questi detenuti collaborino con la giustizia. Questa norma che è, diciamo, figlia dell'insegnamento di Giovanni Falcone, di Paolo Borsellino, che è una norma ovviamente a lungo osteggiata dalla criminalità organizzata, tanto insomma da finire nel famoso dibattito sulle trattative, nei papelli della mafia, è sempre stato uno dei grandi obiettivi della criminalità organizzata che questa previsione del nostro ordinamento venisse meno. Voi sapete che è oggetto di un dibattito all'indomani di una sentenza, diverse sentenze che ci sono state sia la Corte Europea che la Corte Costituzionale, nelle quali in buona sostanza si dice che la norma, così come ad oggi inserita nel nostro ordinamento, ha, diciamo, dei profili di incostituzionalità perché non rispecchia nell'attuale formulazione il principio della funzione rieducativa della pena. E quindi la Corte Costituzionale, tempo fa, diciamo, decise di non dichiararla illegittima perché, diceva la Corte stessa, questo rischiava di avere un, diciamo, un effetto demolitorio della norma e rimandava, in buona sostanza, al Parlamento di correggere la norma. Il Parlamento ci ha lavorato nella scorsa legislatura, la Camera dei Deputati ha approvato una norma all'unanimità, ma per effetto della fine della legislatura la norma non è stata approvata anche al Senato. E quindi la Corte Costituzionale, la prossima, diciamo, riunione della Corte Costituzionale prevista per discutere di questo punto è prevista per il prossimo 8 novembre e ovviamente in assenza di un'iniziativa da parte del Governo e noi ci ritroveremmo inevitabilmente, si presume, il prossimo 8 novembre con un pronunciamento definitivo della Corte Costituzionale. Allora abbiamo scelto di inserire in un decreto per anticipare, diciamo, per anticipare il lavoro che probabilmente il Parlamento avrebbe comunque fatto, se ci fossero stati i tempi, di inserire in decreto la norma esattamente come è stata approvata dalla Camera dei Deputati. Per rispetto anche al lavoro che il Parlamento aveva fatto nella scorsa legislatura, per rispetto a una norma che aveva avuto, come dicevamo, l'unanimità del consenso, poi si vedrà in sede di conversione se il nuovo Parlamento valuterà, ovviamente, delle modifiche in questo senso, ma per rispetto al lavoro che era stato fatto dal Parlamento in una interlocuzione che c'è e che c'è stata tra Parlamento e Corte Costituzionale, noi abbiamo deciso di prendere la norma così come votata da uno dei due rami del Parlamento e inserirla in un decreto per dare tempo al nuovo Parlamento di convertirla, ovvero anche di ragionare dei miglioramenti che dovessero essere necessari da questo punto di vista. Quindi questo è un provvedimento ovviamente nel quale io sono molto contenta, come vedete ho anche tolto il bavaglio al Ministro Nordio che gli avevo messo nei giorni passati, ho letto sulla stampa, ma insomma per dire che abbiamo condiviso dall'inizio questa necessità e dicevo sono molto contenta di questo provvedimento che dà un segnale su qualcosa su cui ci siamo impegnati dall'inizio di questa legislatura e di questa esperienza di governo. Nel decreto è inserita anche un'altra norma che riguarda il tema della giustizia e che riguarda nello specifico la riforma Cartabia. Il prossimo 2 novembre, quindi dopo domani, sarebbe entrata in vigore la riforma Cartabia per la parte che riguarda il processo penale, però nei giorni scorsi il nostro Ministro della Giustizia è stato raggiunto da una lettera a firma di tutti i Procuratori Generali d'Italia che segnalavano come le disposizioni previste nella norma del Ministro Cartabia in assenza degli strumenti per poter adempiere le previsioni della norma rischiava sostanzialmente di creare problemi significativi al nostro ordinamento. Cioè la norma prevede molti adempimenti ma i nostri uffici giudiziari non sono pronti ad adempiere a quelle previsioni di norma e questo in buona sostanza rischiava di produrre una paralisi del nostro sistema giudiziario. Lì ci sono, voglio dire, degli esempi che si possono fare perché ad esempio nella norma è previsto che il Pubblico Ministero debba comunicare alla Procura Generale tutti i procedimenti penali pendenti però il sistema anche a questo fine non è stato finora informatizzato e dico di più la norma prevede che una serie di reati fino ad ora procedibili d'ufficio diventano procedibili su querela di parte ma non esiste uno strumento che dica qual è il tipo di interpello che si deve fare alle vittime di quei reati per segnalare che eventualmente devono, diciamo, denunciare, devono fare una querela. E chiaramente nelle more dell'applicazione di questa norma si rischiava anche che una serie di detenuti per alcuni reati, insomma anche di una certa gravità, uscissero dal carcere. Quindi noi rischiavamo sia quello che ci segnalano i Procuratori Generali e quindi diciamo molte difficoltà sul piano del funzionamento del nostro sistema di giustizia e sia di dare un segnale diametralmente opposto a quello che questo Governo vuole dare e cioè che in Italia non c'è certezza diciamo del diritto e che persone che insomma sono sotto processo per aver commesso dei reati escano anticipatamente, escano anzi dal carcere. Anche su questo devo dare un elemento di chiarezza. qualcuno ha detto che con questo rinvio che è al 30 dicembre noi rischiamo di far saltare una delle milestone del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. In effetti questa riforma è uno degli obiettivi ai fini del PNRR. Però nelle indicazioni diciamo la Commissione Europea è uno degli obiettivi che noi dobbiamo centrare entro il 31 di dicembre. Quindi ai fini del PNRR non cambia nulla. Noi ci siamo semplicemente presi due mesi mantenendo i nostri impegni con la Commissione Europea per intanto offrire diciamo più tempo ai nostri diciamo ai nostri uffici giudiziari per e aiutandoli nell'organizzazione perché possano adempiere a quello che la legge prevede e in secondo luogo anche per valutare anche qui in sede di conversione se vi siano alcune questioni da perfezionare nella nella riforma del processo civile ma non c'è alcuna alcun rischio per questo rinvio dell'entrata in vigore di questa norma che diciamo venga compromesso il PNRR e Resilienza. Questo per quello che riguarda la giustizia dopodiché sulla base di quello che è accaduto negli ultimi giorni dove abbiamo visto l'ennesimo rave party illegale organizzato sul nostro territorio nazionale che vede persone in molti casi arrivare da mezza Europa e diciamo organizzare questi eventi nella totale illegalità cosa che abbiamo diciamo ampiamente contestato anche nei mesi negli anni scorsi il Ministro Piantedosi che voglio ringraziare per questa sua celerità oltre a essere intervenuto immediatamente anche qui per dare un segnale diciamo di uno Stato che non vuole dimostrarsi miope, inerme, fermo di fronte alla violazione reiterata delle leggi di fronte all'illegalità e anche diciamo così insomma invece vuole rispondere immediatamente e quindi il dicevo il Ministro Piantedosi oltre a essere intervenuto immediatamente ci propone diciamo una norma che interviene su questa su questa materia con la previsione di un diciamo reato di un nuovo reato che è il reato di invasione per raduni pericolosi per l'ordine pubblico o l'incomunità pubblica o la salute pubblica noi inizialmente si era ragionato diciamo così di intervenire su una aggravante per un reato che già esiste che è il reato di invasione di terreni ed edifici ma abbiamo poi scelto la seconda strada quella che presentiamo di introdurre un nuovo reato diverso perché non volevamo che questo reato si inserisse nella fattispecie dei reati contro il patrimonio ma volevamo che fosse quello che è e cioè un reato contro l'incomunità pubblica poi su questo ovviamente il Ministro Piantedosi spiegherà bene che cosa prevede la norma sia sul piano penale sia sul piano del reato sia sul piano delle confische degli strumenti utilizzati sia anche sul tema del monitoraggio cioè su come si faccia a prevenire questi eventi ma anche qui sono molto contenta del segnale che viene dato del segnale molto chiaro che viene dato anche da questo punto di vista c'è poi una all'interno del decreto c'è una norma che riguarda il Ministro Schillaci il Ministro della Salute e che riguarda segnatamente gli operatori della sanità per i quali unici ormai in Italia era prevista la scadenza dell'obbligo vaccinale al 31 di dicembre voi sapete l'obbligo vaccinale è scaduto per tutti lo scorso giugno se non vado errata sopravvive fino al 31 dicembre solo per gli operatori del comparto sanitario e noi abbiamo deciso di anticipare la fine di quest'obbligo al primo novembre cioè a domani perché questo ci consente di prendere 4.000 persone che attualmente sono ferme in un sistema sanitario che ha già un enorme problema di organico e rimetterle al lavoro e quindi abbiamo anche sulla base dei dati e della situazione che il Ministro Schillaci ovviamente spiegherà meglio di me abbiamo deciso di anticipare la fine di questo obbligo così come invece confermiamo l'utilizzo delle mascherine all'interno degli ospedali perché anche qui insomma ho letto notizie di ogni genere che però non corrispondevano a verità dopodiché noi e poi passo la parola ai Ministri perché non voglio togliere molto tempo che spiegheranno meglio nel merito noi presumibilmente ci vedremo per un altro Consiglio dei Ministri credo venerdì 4 Consiglio dei Ministri molto importante perché abbiamo in discussione l'approvazione della Nadef quindi della nota di aggiornamento al documento di economia e finanza che è fondamentale e propedeutica anche per la legge di bilancio noi stiamo facendo una corsa contro il tempo come immaginate sulla legge di bilancio perché ovviamente i tempi sono molto ristretti e quindi in questo prossimo Consiglio dei Ministri passiamo a parlare di economia spero anche di energia con alcuni primi provvedimenti al netto chiaramente di quello che deve essere previsto con la legge di bilancio e come dicevamo ci saranno le deleghe ai ministeri il giuramento dei sottosegretari dovrebbe svolgersi nella giornata e qui mi diverto domani a leggere i giornali del 2 quindi dopo domani perché insomma anche qui non vogliamo perdere tempo ci serve che le persone siano subito operative e al lavoro e l'ultima cosa che vi devo raccontare di questo Consiglio dei Ministri è che noi abbiamo aperto il Consiglio dei Ministri tributando ovviamente il nostro pensiero a un anniversario particolare che ricorre oggi il ventennale di una delle stragi dei fatti insomma che ci hanno colpito di più nella storia d'Italia e cioè la vicenda dei 27 bambini e della maestra che vent'anni fa a San Giuliano di Puglia in Molise sono morti per il crollo di una scuola fatiscente e lo abbiamo fatto anche per ricordarci l'impegno che abbiamo in tema di messa in sicurezza degli edifici scolastici Io mi fermo qui, spero di aver detto tutto e do la parola al Ministro Nordio Grazie Presidente, grazie a voi della vostra attenzione è stata una giornata importante per la giustizia siamo intervenuti in tre settori che sono già stati illustrati dal Presidente del Consiglio io mi limiterò a qualche integrazione è una materia estremamente complessa quindi i tempi sono incompatibili con una illustrazione dettagliata di questi articolati ma la strategia e l'obiettivo è facile da spiegare il primo riguarda il cosiddetto ergasto allo stativo come è stato detto noi avevamo questa indicazione da parte della Corte Costituzionale che si sarebbe pronunciata di qui a pochi giorni su alcune criticità di questa disciplina criticità che riguardavano essenzialmente l'automatismo che significa che per il semplice fatto di essere condannati per un certo tipo di reati scattassero alcuni provvedimenti o limitazioni di provvedimenti questa indicazione è stata accolta ed è stata inserita nel decreto di cui si è parlato nel senso che non vi è più questa automaticità ma è devoluto al giudice al giudice dell'esecuzione poi al giudice di sorveglianza tutta una serie di valutazioni fatte su iniziativa peraltro del diretto interessato cioè del condannato sulla possibilità di applicazione o non applicazione di quegli benefici la norma non compromette e ci tengo a dirlo minimamente la sicurezza e la certezza della pena si tratta ripeto di adeguarci alle indicazioni della Corte Costituzionale e anche a recepire come è già stato detto l'indicazione data dal precedente Parlamento che praticamente all'unanimità aveva proposto questa modifica vi sono poi delle varianti sulla competenza collegiale del Tribunale di Sorveglianza e sul peculiare regime approbatorio ma vi risparmio questi dettagli tecnici che peraltro sarebbero ripeto incompatibili anche con il luogo di cui stiamo parlando. Il secondo provvedimento che è altrettanto importante e per certi aspetti urgente forse addirittura se non più urgente ma ugualmente urgente era proprio quella del funzionamento degli uffici giudiziari avendo esercitato per 40 anni praticamente esclusivamente l'attività di Pubblico Ministero cioè il prima linea nella lotta alla criminalità e nell'esercizio dell'azione penale ero e sono perfettamente consapevole delle difficoltà in cui versano le nostre procure e gli uffici dei giudici delle indagini preliminari e delle corti d'appello e delle procure generali. Ho ritenuto pertanto di accogliere praticamente integralmente quello che era il grido di dolore di queste procure che avevano manifestato questa impossibilità di adeguare la loro operatività alle risorse disponibili. La normativa che è stata semplicemente rinviata è una normativa che va nella giusta direzione ma ripeto proprio da un punto di vista pratico sarebbe stato oggi impossibile garantire questi flussi informativi tra pubblici ministeri e procure generali che invece questa normativa prevede. Questo avrebbe comportato un sovraccarico intollerabile sia delle procure della Repubblica sia delle procure generali e quindi abbiamo, ripeto, raccolto questo grido di dolore e lo abbiamo accolto in pieno. Ci tengo a dire, ma è già stato detto dal Signor Presidente e dalla Signora Presidente, che non ha nessun impatto negativo con il PNR. Anzi, avremmo corso il rischio, dando una attuazione immediata a questa riforma, che proprio per la incompatibilità con le risorse disponibili ci si sciogliesse, per così dire, in mano, cioè fosse inapplicabile. Questo rinvio di due mesi ci dà la possibilità di capire meglio le problematiche e di intervenire per la loro risoluzione in vari modi, sia in via amministrativa potenziando, dove possibile, le risorse, ma soprattutto coordinando i vari uffici giudiziari che, come sapete, costituiscono ognuno una Repubblica a sé stante, perché non esiste una gerarchia tra pubblici ministeri e delle varie regioni. E anche qui rischiavamo di assistere a una confusione normativa, perché molte procure allarmate, giustamente allarmate, da questa distonia avevano emanato delle circolari che non sempre erano compatibili le une con le altre. E quindi, in questo modo, pur rinviando, quindi guadagnando tempo, so che è una brutta espressione, ma necessitas legem non abet, e questo era necessario farlo, avremo anche il tempo, attraverso anche una riunione con i procuratori generali, di coordinare questi lavori. Il terzo aspetto era quello, anch'esso è già stato indicato, di una distonia tra novazione normativa sui reati procedibili di ufficio e acquerela e, anche qui, le risorse disponibili e la possibilità di accertare quali fossero questi reati ancora pendenti, o addirittura quanti e quali fossero i detenuti che stessero espiando una pena che magari non avrebbe più ragion d'essere, perché il reato è diventato improcedibile. Non vorrei essermi espresso in termini troppo tecnici, ma vi farò un esempio. La gran parte dei furti è procedibile d'ufficio, anche se il furto semplice è procedibile acquerela, ma la grandissima parte dei furti sono furti aggravati. Essendo procedibili d'ufficio, molti di questi sono stati semplicemente denunciati dalle vittime che non hanno proposto una querela, perché in quel momento sono stati avvertiti dalla polizia giudiziaria che, essendo il reato perseguibile d'ufficio, la querela non era necessaria. Ora, questi reati, giustamente, secondo me, diventano procedibili acquerela, però molti di questi sono stati o sono subiudice o addirittura sono stati presupposti per una condanna e sono diventati praticamente improcedibili. Quindi questo avrebbe obbligato le procure della Repubblica e i vari uffici giudiziari dei gradi successivi a verificare, volta per volta, reato per reato, fascicolo per fascicolo, denuncia per denuncia, se nella denuncia del furto vi fosse anche la cosiddetta voluntas puniendi, cioè la querela. La querela non è sempre formulata in termini sacramentali con un atto a parte, può anche essere contenuta nella denuncia, ma questo avrebbe comportato la necessità degli uffici giudiziari di verificare, ripeto, volta per volta, migliaia e migliaia di fascicoli e addirittura la situazione dei detenuti. Questo è, appunto, ancora una volta incompatibile con le risorse materiali e umane che abbiamo. Guadagnando tempo, anche qui venendo incontro alle giuste richieste degli uffici giudiziari, cercheremo e, anzi, siamo certi che entro il termine che ci è stato concesso, del fine di dicembre, porremo rimedio anche a questo. Tutto ciò, ripeto, costituisce un intervento urgente che, secondo me, oso dire, rappresenta un buon biglietto da visita nei confronti anche dei cittadini e, vorrei dire, della stessa magistratura. Grazie, Ministro Nordio. La parola al Ministro Piantedosi per la sua parte di competenza. Grazie, Presidente. Io ho poco da integrare perché la parte per la quale ha contribuito il Ministero dell'Interno è appunto limitato, come già il Presidente ha detto efficacemente, alla introduzione di una fattispecie specifica di reato. Come il Presidente ha già accennato, abbiamo optato per la proposizione di una fattispecie di reato che disse conto anche un po' della natura giuridica, un po' della natura proprio anche fattuale, degli eventi che si verificano rispetto a quella che era la previsione originaria del reato del 633 del Codice Penale, che risale, insomma, nella sua concezione, nella sua genesi anche a quasi 100 anni età. E quindi abbiamo concepito, su questo ringrazio il Collega Nordio e il Sottosegretario Mantovano, quindi con il contributo qualificato anche della loro esperienza, abbiamo quindi strutturato questo intervento normativo che, in buona sostanza, come accennava il Presidente, prevede la fattispecie specifica delle invasioni di terreni ed edifici finalizzati a raduni di oltre 50 persone da cui possano derivare i pericoli per l'oncolumità pubblica, l'ordine pubblico o la sanità pubblica. Quindi capirete, anche se descritto così in maniera, seppure sommaria, ma insomma abbastanza tecnica, come fotografa soprattutto gli eventi che qualifichiamo come real party. Ci siamo mossi, ci stavamo già lavorando, era già in previsione che proponessimo questo, i requisiti di necessità e urgenza li ravvisavamo nel fatto, drammaticamente confermato nella giornata di ieri, che probabilmente l'assenza di una disciplina normativa efficace nel nostro Paese, mentre i Paesi, noi limitrofi, dispongono di un quadro normativo particolarmente efficace, insomma di sanzioni di questo tipo di fatti, ci rendeva particolarmente vulnerabili, come ahimè la cronaca degli ultimi anni testimonia. E peraltro si tratta di un reato, di eventi che non solo sono molto pericolosi per le stesse persone che li commettono, ma sono molto dispendiose anche per l'impiego delle forze dell'ordine che ne consegue. E quindi abbiamo deciso di proporlo, l'avevamo già deciso. Ovviamente l'evento di ieri ha reso evidente una sorta di coincidenza specifica. Abbiamo previsto una sanzione abbastanza significativa per chi organizza e commette da 3 a 6 anni. La sola partecipazione riduce ovviamente la pena ed è prevista, ecco questo noi confidiamo molto sulla efficacia di deterrenza della sanzione accessoria della confisca obbligatoria prevista in questi casi, dei mezzi che vengono utilizzati per organizzare l'evento. Quindi noi confidiamo, come avviene in altri Paesi e come avviene in altri settori dove anche il nostro ordinamento prevede quadri interventi normativi così specifici, confidiamo che la norma, una volta introdotta, possa costituire anche da elemento di deterrenza per l'accadimento di questi eventi. e io almeno come descrizione dell'evento dell'intervento mi fermerei qui. Grazie Ministro Piantedosi. La parola al Ministro Schillaci. Grazie Presidente. Il provvedimento che abbiamo preso oggi nel Consiglio dei Ministri è quello di anticipare al primo novembre la scadenza dell'obbligo per gli esercenti delle professioni sanitarie rispetto alla vaccinazione. Come ci ha già detto dal Primo Ministro, questo obbligo per altre categorie professionali importanti era già scaduto il 15 giugno scorso. Perché questa decisione? Innanzitutto il quadro epidemiologico oggi del Covid-19 è mutato rispetto a quando questo provvedimento era stato preso. in particolare dai dati che abbiamo in nostro possesso e che sono noti alla comunità scientifica oggi l'impatto sugli ospedali continua ad essere limitato. C'è una stabilizzazione o una diminuzione dell'incidenza dei casi di contagio e anche una stabilizzazione del tasso di occupazione sia dei letti nelle aree mediche che nei posti in terapia intensiva. A questo si aggiunge il problema della grave carenza di personale medico e sanitario nei nostri ospedali. Carenza che deriva da una programmazione evidentemente sbagliata negli ultimi dieci anni con il ricorso, come avete visto, sempre più frequenti a medici extracomunitari oppure i cosiddetti medici a gettone che percepiscono i monumenti pari da 2 a 5 volte quelli che sono percepiti dai medici che operano nel Servizio Sanitario Nazionale. E quindi crediamo fortemente che aver rimesso a lavorare nelle nostre strutture questi medici e questi operatori sanitari serve innanzitutto per contrastare proprio la carenza che si registra sul territorio. E questo è importante per garantire l'effettività del diritto alla salute che è sancito dall'articolo 32 della nostra Costituzione. Approfitto di questa occasione per ribadire quella che è stata l'importanza dei vaccini nel contrasto alla pandemia dal Covid-19 e per ringraziare sentitamente i medici e tutti gli operatori sanitari che in questi anni si sono prodigati contro il Covid-19 pagando anche un pesante tributo di vittime. E concludo facendo un ultimo commento su quello che il Presidente vi ha già annunciato. Stamane alle 8 ho firmato una ordinanza che proroga l'obbligo dell'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie aeree nelle strutture sanitarie in relazione non solamente allo scenario del Covid-19 ma anche al fatto che ci stiamo approssimando alla stagione influenzale. Voglio chiarire molto bene che mai abbiamo pensato di non andare in questa direzione. Questa è una scelta condivisa anche con il Primo Ministro. Non c'è alcun ripensamento. Non ho mai dichiarato che non sarei andato in questa direzione. Grazie. Grazie anche al Ministro Schillaci se ci sono delle domande. Purtroppo ci sono delle domande anche se i tempi sono ristretti causa impegni istituzionali. Si erano già prenotati Francesco Maesano del Tg1 e poi andremo via via con gli altri. E' pronto Francesco? Eccolo. Buonasera grazie mille. Mi sentite? Sì. A proposito della questione del gastro rostativo. Mi sentite ora? Sì. Lei ha dato la lotta alla mafia come orizzonte e obiettivo di questo governo. Volevo chiederle se anche questo va in questa direzione e se ci possiamo aspettare nuove misure sul punto. e guardi nuove misure sul punto mi auguro che non sul punto diciamo carcere o stativo mi auguro che non servano. Nel senso che quello come io dicevo quello che noi facciamo oggi è diciamo intanto impedire o evitare insomma che per incapacità della politica di dare risposte diciamo immediate. uno degli istituti diciamo più efficaci nella lotta alla criminalità organizzata e più temuti dalla criminalità organizzata venga meno. Io non le nascondo personalmente che in sede di conversione del decreto mi auguro che il Parlamento possa anche migliorare la norma che era uscita dalla precedente legislatura. E quindi no spero che non ci debba essere sul tema del carcere o stativo un ulteriore provvedimento almeno in termini di giustizia di chiedo scusa almeno in termini di legge ordinaria. perché l'altro modo per affrontare la vicenda della diciamo per garantire la vicenda del carcere o stativo è intervenire sul piano costituzionale. Al tempo facciamo anche delle delle proposte da questo punto di vista. Ma se diciamo la norma ordinaria del Parlamento risolve il problema e mantiene con i paletti con cui la norma oggi uscita dalla precedente legislatura circoscrive però garantisce l'esistenza di questo istituto. Io credo che abbiamo semplicemente dato un segnale e cioè che sul tema della lotta alla mafia non intendiamo fare neanche mezzo passo indietro. Intendiamo fare solo passi in avanti di cose da fare ce ne saranno moltissime io alcune le ho citate anche soprattutto in sede di replica in Parlamento durante la mia relazione. Penso che ad esempio tutto il tema dei beni confiscati dell'utilizzo dei beni confiscati della possibilità che i beni confiscati ai clan possano essere restituiti alla comunità possano essere visibili per la comunità. Questo sia un segnale della vittoria dello Stato sulla criminalità oggi non mi viene organizzata migliore che si possa dare in assoluto per cui anche su questo ovviamente lavoreremo e su molti altri provvedimenti. Diciamo sono molto contenta di aver dato questo segnale che in realtà insomma è anche un fatto di necessità ma di aver dato questo segnale in maniera così chiara così come sono contenta di averlo dato sul tema del rispetto delle regole e la legalità di uno Stato che c'è e diciamo che non si fa mettere esattamente i piedi in testa da chiunque. Bene grazie Monica Guersoni del Corriere della Sera. Aspettiamo il microfono un attimo Monica aspettiamo il microfono che arriva. Buonasera mi ricollego al Ministro Schillaci e chiedo anche a lei Presidente. Lei ha detto in Parlamento che riguardo al Covid ha detto poi con questi provvedimenti diciamo che ha segnato la discontinuità rispetto al precedente governo. in Parlamento aveva detto non replicheremo anche io come lei mi impappino non replicheremo il modello speranza. E volevo chiederle adesso i dati sono quelli che ci dice il Ministro quindi c'è una decrescita. Se con le nuove varianti dovesse esserci di nuovo un aumento quale sarà il vostro modello e se c'è l'intenzione da parte del Ministero della Salute di eliminare la norma per la quale ci sono cinque giorni di isolamento se si è contagiati. Il che porterebbe appunto le persone contagiate nella società. Grazie. Guardi sul tema dei cinque giorni risponderà poi il Ministro Schillaci. Io posso dirle qual è secondo me la discontinuità che noi vogliamo applicare. Ho letto qualcuno oggi esponenti dell'opposizione che dicevano che il Ministro Orazio Schillaci non capirebbe molto di sanità pubblica. Ora vedi è un po' curioso che qualcuno che è medico nucleare, membro dell'Istituto Superiore di Sanità, rettore della facoltà, presi della facoltà di medicina eccetera 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 capisca di sanità meno di ministri che noi abbiamo avuto massimo rispetto in questi anni ma che non erano della materia diciamo così. E la ragione per la quale io ho voluto una persona così preparata su questa materia è che il tema della salute, il tema del covid, il tema della scienza non si affronta con un approccio ideologico. Si affronta con un approccio serio che tenga conto quando si prendono dei provvedimenti di quali siano le evidenze scientifiche a supporto di quei provvedimenti. Quello che io contesto della gestione precedente è che ci sono stati una infinità di provvedimenti presi dai governi che non avevano alla base alcuna evidenza scientifica. E poiché noi parlavamo di contrazione delle libertà personali e di temi che sono molto molto seri nella nostra diciamo nel nostro ordinamento costituzionale e per la nostra civiltà ecco io credo che questo non si possa replicare. Quindi come procediamo? Procediamo valutando le scelte che si fanno in base alle cose che sono realmente efficaci facendo un'informazione molto più chiara di quella che è stata fatta in passato perché in Italia è stata fatta una confusione che non si è vista in nessun altro posto al mondo e anche lavorando secondo me molto sulla responsabilizzazione dei cittadini che è proprio figlia di una informazione molto chiara. Quello che io ho detto in aula e che rivendico è che l'Italia è la nazione d'Occidente che ha preso nel contrasto al Covid i provvedimenti più restrittivi in assoluto e contemporaneamente è una delle nazioni che vantano i più alti tassi di letalità e di mortalità da Covid. E qualcosa non ha funzionato e quindi bisogna ragionare in maniera diversa. Che cosa secondo me non ha funzionato? Non ha funzionato che a un certo punto il Covid è diventato un tema da campagna elettorale. C'è una materia sulla quale diciamo c'è stato un approccio molto ideologico e questo non ci ha aiutato a prendere i provvedimenti migliori. E chiunque si permettesse di fare delle valutazioni su cose che non avevano un'evidenza scientifica alla base veniva attacciato di essere un mostro. Ma quelle risposte non sono mai arrivate e i risultati sono arrivati e non mi pare che fossero così efficaci. Quindi è l'approccio diciamo che cambia valutando di volta in volta qual è il tasso, non solo qual è il tasso di contagio ma anche qual è il tasso di letalità e mortalità. No, è cambiato ovviamente diciamo ad oggi l'impatto che il Covid ha sulle nostre, anche per la capacità che abbiamo di curarlo, di prevenirlo. E quindi ovviamente vanno fatte delle valutazioni su questa base. Non so che cosa, se il Ministro Schillaci immagino voglia aggiungere qualcosa. Sì, credo come ha detto ora il Presidente del Consiglio che la salute pubblica non è un problema ideologico, non è un problema burocratico. Quindi bisogna avere un approccio sereno e scientifico nell'interesse unico dei malati, che sono da sempre al centro della mia attenzione da medico e oggi ovviamente da Ministro. Riguardo agli altri due aspetti un po' più tecnici che lei ha sollevato, se arriveranno nuove varianti, noi siamo pronti in ogni momento a intervenire. C'è stata qualche polemica anche sul fatto che il bollettino è diventato settimanale, ma i dati vengono tutti i giorni ovviamente raccolti. Avere una stima settimanale dal punto di vista statistico ci dà anche una maggiore certezza di ciò che stiamo monitorando rispetto a una valutazione quotidiana. I dati ci sono, non sono secretati, sono in qualunque momento a disposizione delle autorità competenti. Laddove ci fossero da un giorno all'altro delle variazioni importanti saremo i primi a comunicarlo. L'altro aspetto che lei giustamente ha indicato è quello dell'isolamento dei cinque giorni. Ci stiamo lavorando, oggi abbiamo avuto le prime riunioni scientifiche con esperti dell'Istituto Superiore di Sanità, degli RCCS Spallanzani, che è l'Istituto a ricerca, carattere e cura scientifico che si occupa di malattie infettive e anche con AIFA. Per questo vediamo un attimo qual è l'evoluzione del quadro epidemiologico. E ribadisco, ogni decisione verrà presa sempre e solo nell'interesse dei pazienti. Ministro, siamo sempre più in difficoltà con i tempi. Ronnie Gasbarra, la pressa. Dove sei? Eccolo, vai. Buonasera. Volevo chiedere al Presidente. La norma riguardante i rave nasce probabilmente anche da un intervento che ha fatto a suo tempo, quando c'era stato quello a Viterbo. Volevo capire, vi aspettate con questa nuova normativa di porre un freno totale alla situazione? Volevo chiedere anche riguardo alla Delega dei Servizi che cosa si era deciso in Consiglio dei Ministri su questo tema. Grazie. Guardi, noi ci aspettiamo intanto con questa norma sui rave, lo diceva correttamente il Ministro Piantedosi, di non essere diversi dalle altre nazioni d'Europa. Nel senso, quando ci fu il famoso rave di Viterbo che tanto fece discutere, la cosa che mi colpì molto è che, come accade quasi sempre in questi eventi, queste migliaia di persone che erano arrivate in Italia e avevano organizzato questo rave party illegale con i risultati che conosciamo, devastazione in un'area protetta, ci furono due morti, insomma, situazione molto complessa, arrivavano da tutta Europa. E si erano organizzati con delle chat, no? Si scrivevano. E io ho immaginato la scena di questi simpatici, di queste persone che dicevano dove vogliamo andare? In tutta Europa? Vogliamo andare in Francia? Vogliamo andare in Germania? No, andiamo in Italia. Perché? Perché l'impressione che lo Stato italiano ha dato in questi anni, secondo me, è una, diciamo, impressione di lassismo sul tema del rispetto delle regole e del rispetto della legalità. E quindi era ragionevolmente più agevole organizzare un'iniziativa di questo genere perché qui si sarebbe potuta chiaramente celebrare e magari in altre nazioni no. Ed è quello che accadde, perché lei ricorderà che, differentemente da quello che è accaduto nelle ultime ore, perché la volontà in politica fa la differenza, quelle persone rimasero lì per, vado a memoria, 48 ore, forse qualcosa di più, 72 ore, andarono via da sole. Andarono via di loro sponte dopo giorni come se lo Stato non esistesse. Lo stesso Stato che invece, appunto, poi in altre situazioni si era mostrato molto più presente. Allora, il segnale che io voglio dare è che l'Italia non è più, diciamo, la nazione nella quale quando c'è da delinquere si può venire, perché qui, insomma, siamo meno attenti di quanto non lo siano altri e voglio essere, vorrei che l'Italia fosse una nazione nella quale esistono tutte le norme che servono e vengono ovviamente fatte rispettare per garantire, ovviamente, tutela dell'ordine pubblico, tutela della incolumità pubblica. E questo è uno di quelli, diciamo, di quelle fatti specie nelle quali forse una norma ad hoc può aiutare intanto a dare un messaggio più chiaro e poi a intervenire con maggiore efficacia rispetto a quello che abbiamo visto in passato. Poi vedremo nell'applicazione della norma se accadrà ancora e se dovesse accadere ancora, ovviamente, che come si può eventualmente ancora migliorare, perché così, secondo me, bisogna operare. Ma io penso che già aver dato il messaggio chiaro che l'Italia interviene e risponde, forse, può essere un buon deterrente per chi da tutta Europa pensa di avere, diciamo, vita facile venendo qui a devastare aree protette o a organizzare eventi illegali. Delega ai Servizi Segreti, su questo stiamo ancora lavorando. Penso che nel prossimo Consiglio dei Ministri su questo avremo, diciamo, le determinazioni che servono. Bene, riusciamo a fare una, al massimo credo una comunque. Francesco Becchis, del Messaggero. Buonasera, Presidente. Allora, c'è la lista dei sottosegretari. La domanda è quali sono i criteri che sono stati seguiti nella scelta, le eventuali criticità incontrate e cosa si aspetta lei dalla sua squadra di governo? O non si aspetta, evidentemente? Grazie. Allora, mi aspetto dalla mia squadra di governo compattezza su tutto, lealtà. Lo sto riscontrando, devo dirvi la verità. Questo lo dico senza polemiche. Negli ultimi giorni ho letto molte ricostruzioni su... Appunto, prima facevo la battuta sul rapporto tra me e il Ministro Nordio, ma devo dirvi la verità, insomma, adesso. Probabilmente lo direi anche se le cose non andassero così, ma veramente non ci sono in questa fase stati problemi di alcun genere. in Consiglio dei Ministri si respira, i ministri ne sono testimoni, il sottosegretario Mantovano ne è testimone, si respira un clima di grande compattezza, di entusiasmo, pur nella consapevolezza delle difficoltà che noi incontriamo. Credo che il fatto di trovarci a governare questa nazione nel periodo più difficile della storia d'Italia, in qualche maniera porti inevitabilmente a mettere anche quelli che possono essere delle volte, diciamo, forme di individualismo piuttosto che da parte. E devo dire che tutte le volte che abbiamo avuto delle punti di vista diversi o delle interlocuzioni, l'obiettivo di tutti è stato quello di arrivare a una soluzione. Vale anche per la squadra dei sottosegretari, guardi, perché sì, ci sono stati, come sempre, insomma, ci sono valutazioni nel merito, però io non ho incontrato problemi. Il criterio era un criterio dato da quali sono le persone che possono meglio, nel rispetto ovviamente dei ruoli, nel rispetto dei pesi, nel rispetto di quello che si fa, ovviamente per rispondere al consenso degli italiani, quali sono le persone migliori per determinati incarichi. Ovviamente anche facendo quelle mediazioni che queste cose comportano, perché noi cerchiamo sempre, ovviamente c'è il tema della presenza femminile, è importante, c'è anche il tema di una rappresentanza territoriale, no? Che deve essere il più possibile diffusa. E quindi, insomma, non è mai un lavoro facilissimo, però, devo dire la verità, noi l'abbiamo fatto in poche ore e dove ho incontrato dei, diciamo, dove ho avuto dei dubbi, non ho avuto problemi a farli presenti e ho avuto risposte positive, cioè si vogliono risolvere i problemi. E ne sono contenta, per cui, insomma, diciamo, vorrei fare un po' di controinformazione su questo fatto che leggo, appunto, che ci sarebbero dei problemi. Non ci sono problemi, fortunatamente per ora. Arriveranno, per carità, come sempre. È normale che sia così. Però, per ora, devo dire, stiamo procedendo con grande condivisione e con grande voglia di fare. Insomma, guardiamo molto al merito delle cose. Bene, grazie a tutti. Purtroppo il tempo è scaduto. Il Presidente ha impegni istituzionali improrogabili. Grazie a tutti e alla prossima. Grazie. Grazie a tutti. Il Presidente, che peraltro si svolge da molti anni, per la quale si può, ovviamente, giustamente e comprensibilmente pensare qualsiasi cosa, ma è cosa completamente diversa. Nel reparti c'era, ricordo, la denuncia di un proprietario dell'immobile e il sequestro preventivo concesso dall'autorità giudiziaria. Quindi è un'altra cosa. Predappio, come tante altre manifestazioni, vengono gestite, secondo i canoni, nell'ordine pubblico, laddove si garantisce la libertà di manifestazione del pensiero. Ahimè, qualsiasi pensiero. Ovviamente col prioritario interesse è che non succedono incidenti e che non ci siano cose che ledono l'ordine pubblico. Tutto qui. Sono cose completamente diverse. Guardi, lei sa come la penso sulla materia, perché insomma non so che cos'altro io vi debba dire su questo. Dopodiché, cosa diversa, intervenire come ordine pubblico, se ci sono violazioni di reati bisogna intervenire ovunque, anche in questo caso per quello che mi riguarda, ma questo lo deve valutare il Ministero degli Interni. Politicamente è una cosa distante da me, come lei sa, in maniera molto significativa. Voi tornate sul tema, ma non avrete, diciamo, soddisfazione su questo. Non so che cos'altro io vi possa dire. Grazie, buon lavoro.